buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce oggi è lunedì e quindi il professore di vita mister nichilista ovvero il sottoscritto incomincia una nuova settimana di lezioni di vita per chi non lo sapesse io produco contenuti dal lunedì al venerdì e per chi non lo sapesse se vi piace quello che faccio avete la possibilità e vi ringrazio già in anticipo di supportarmi o mediante la mia pagina patreon che trovate in descrizione nel primo commento oppure semplicemente abbonandovi al mio canale qua sotto c'è il tasto abbonati a partire da un euro al mese allora il titolo vede in grande la parola coronavirus ma non parlerò della situazione legata a questa infezione virale a questa pandemia virale perché ne parlano già in tanti ogni parola sarebbe superfa però voglio parlare di un aspetto collegato a questa pandemia ovvero si dice più volte avrete udito questa affermazione che occorre in questo momento cambiare stile di vita dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere dobbiamo iniziare a stare più in casa frequentare meno luoghi affollati eccetera eccetera bene io voglio darvi una notizia quello che i virologi o i politici stanno chiedendo la popolazione non è nient'altro che il mio stile di vita e lo stile di vita che propongo da dieci anni a tutti voi questo non perché si sia per forza degli idioti se si esce spesso se si frequentano luoghi affollati ogni giorno no li rientriamo semplicemente in una questione di gusti però se ci fosse un po meno conformismo forse non saremmo solo in quattro gatti ad avere uno stile di vita molto minimalista e incentrato sulla vita interiore perché al di là delle preferenze soggettive delle inclinazioni soggettive è un po assurdo che lo stile di vita dominante e per dominante intendo 90 per cento degli individui si è incentrato senza se senza ma esclusivamente sul fare 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 vita sociale esaltiamo la vita sociale non importa la quantità basta che ci sia andiamo ovunque godiamoci la vita e cosa si intende per godiamoci la vita andiamo lì andiamo la compriamo questo invece lo stile di vita che propongo io non si è di vita interiore interno introspettivo e anche quando ci si relaziona con l'altro perché io esalto la relazione ovviamente di qualità la relazione intima la riflessione siete si la riflessione la relazione siete tu e l'altra persona che cercate di conoscervi cercate di entrare a fondo uno dentro l'altro e per fare questo non è necessario sempre e comunque ogni giorno ogni settimana andare qui andare la frequentare quel posto e vita sociale e vita sociale e vita sociale potete rinchiudervi anche sei mesi in una stanza in una capanna in un semi interrato purtroppo in questa società invece non c'è l'abitudine ad avere una relazione intima profonda con se stessi e nemmeno con l'altro e le due cose ovviamente sono collegate se tu non sei capace di relazionare con te stesso relazionati con te stesso in maniera intima non lo potrai mai fare con gli altri quindi se fuggi da te fuggirai anche dalla relazione vera ma semplicemente perché non ne sarà in grado non sarai capace di vivere una relazione avrai forse una compagnia vuota semplicemente fisicamente non sei solo ma lo sarai di fatto poi siamo tutti soli però perlomeno una relazione di qualità ti fa sentire un pochettino meno solo mentre le relazioni dominanti improntate sull'esterno e non sull'interno ti fanno sentire più solo cioè mediamente con la vostra idea di vita le relazioni aumentano il senso di solitudine e addirittura alimentano il senso di frustrazione se poi questi due esseri frustrati che stanno insieme per finta si mettono pure a fare un figlio immaginate voi quanto sarà fortunato quel pargoletto a prescindere da quella che la mia visione sul figliare ovvero io sono contrario sempre comunque a generare prole però è ancora più grave se degli incapaci di relazionarsi si mettono a fare i figli perché chissà perché provate a immaginare quei genitori non saranno in grado nemmeno di relazionarsi con quel futuro pargoletto ma se non sai relazionarti con te stesso se non sai relazionarti col tuo padre sarà saprai relazionati con tuo figlio assolutamente no certo avrai istinto materno una volta che nasce un istinto materno ti permetterà di dargli il latte di proteggere da qualche pericolo oggettivo ma non gli basterà questo il tuo piccolo bambino ma non voglio dilungarmi e cambiare troppo argomento è lo stile di vita minimalista lo stile di vita interiore è lo stile di vita che non propongo semplicemente perché è il mio non potrebbe dire vabbè è un tuo gusto personale ma al di là dei gusti personali e delle inclinazioni personali avere a mente avere a cuore queste cose significa avere a cuore un qualcosa di fondamentale per la propria serenità anche la persona che magari tende ad essere più estroversa in assoluto ha bisogno di socializzare riuscire di andare una persona può anche essere estroversa in questo senso ed essere anche intelligente non voglio dire che solamente gli introversi hanno possibilità di profondità la maggior parte dei profondi sono introversi però non dico che tutti i profondi siano necessariamente introversi magari il 90 per cento può esistere anche un 10 per cento di profondi anche estroversi però è importante che anche la persona più estroversa e anche animata da una dirompente vita esteriore è importante che abbia presente queste parole in modo tale che non si perda di vista l'importanza del contatto con se stessi intimo ogni tanto perlomeno perché le persone mediamente ve lo dico tranquillamente non hanno mai nessun contatto con se stessi non si conoscono non sanno niente di sé ma se tu non sei niente di te non ti conosci avrai la possibilità quando ti relazioni con qualcuno di conoscere l'altro ma non c'è nessuna possibilità e nasceranno solo disastri e relazioni di bassissimo livello questa è la seconda verità poi attenzione adesso non voglio che qualcuno come sempre vada ad equivocare tutto questo mio ragionamento ovviamente non dimentica il fatto che ci siano anche molte persone spesso a casa per dire poco fuori che però di profondo di introspettivo non hanno niente cioè non è che basta stare a casa per essere riflessivi profondi una persona potrebbe stare a casa semplicemente perché non ha chi lo invita fuori e al primo invito ci si fionderebbe fuori quindi io parlo di una persona che ha uno stile di vita sobrio in questo senso ma per scelta consapevole per volontà sua perché così sente in linea con se stesso non parlo di uno che vorrebbe uscire e non lo fa soffrendo invidiando gli altri ok è molto importante capire la differenza basta tutto qui non è quindi un video legato al coronavirus in sé però trovo assurdo che ci si deve appellare a rimanere un po' di più a casa perché evidentemente se c'è la necessità di fare questo appello è proprio perché la gente la gente non sta mai a contatto con il proprio intimo perché attenzione qualcuno ora mi dirà ma guarda che la gente deve anche lavorare tu non lavori per te è facile no no ma non si intende questo perché non hanno per ora chiuso le fabbriche e i posti di lavoro quando si fa riferimento a rimanete un po' più a casa con voi stessi si fa riferimento alle altre ore al di là del lavoro questo significa che se c'è bisogno di questo appello che la gente non riesce a fare a meno di pub di discoteche di palestre e di qua e di là e di viaggi quando a mio avviso quello dovrebbe essere il contorno cioè ci potrebbe essere assolutamente ogni tanto il viaggetto la giretina lì ma non come costanza quotidiana cioè le persone come costanza quotidiana che cercano quelle molteplici attività e se capita ma direi quasi mai vabbè dai andiamo dentro di noi andiamo a contatto con noi stessi non va bene così e ripeto va benissimo anche una persona che esce più di me che ha più vita sociale di me che ha bisogno di più attività esterne di me questo non contrasta con la possibilità di una profondità se però oltre a questo fare e andare a destra e manca se oltre a ciò c'è anche il contorno con se stessi nel maggior paio dei casi non c'è qui non mi dite ma guarda che una persona può essere attiva molto in quel senso ma anche avere una vita interiore certo potrebbe in teoria ma nel maggior paio dei casi non c'è quella componente interiore ah Enrico però perché non dici che il buon senso sta in mezzo nel senso tu potresti avere una vita interiore ma uscire di più no non esiste questa affermazione da fare sapete perché perché se io non ho particolari attività esterne non mi dedico a particolari esterne non c'è nessun problema va benissimo così perché ho quello che conta veramente il contatto con me stesso quando mi relaziono con l'altro il contatto intimo con l'altro se una persona si relaziona solo esternamente non ha un contatto con se stesso quello è un grave problema perché è un grave problema? semplicemente perché sarà una persona probabilmente infelice e l'infelicità in molti casi non sempre si manifesta anche con danni al prossimo quindi se vogliamo un mondo migliore se vogliamo un mondo migliore queste cose devono essere conosciute tutto qua un abbraccio condividete se vi va e commentate se vi va sono pronto a leggere i vostri commenti chiaramente io non rispondo sempre a tutti però leggo praticamente tutto quello che viene scritto sotto i miei video tenetene presente tenetelo presente ciao se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina Patreon cliccare in alto a destra su become a Patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1, 2, 5, 10, 20 o 50 euro al mese il gruppo whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda grazie a tutti grazie a tutti